benvenuti ad un nuovo video ora siamo sempre in vacanza questa volta siamo in vacanza a rimini per cui ci saranno tantissimi video in giro anche da altre parti anche perché è uscito anche pokemon gomma questo domani vedremo subito domani faremo il video bellissimo di pokemon gomma qualcosa abbiamo detto anche che ero in treno ma su facebook non avete visto magari andate su matteo trattino basso dolci e lo trovate subito il video bene allora adesso tantissime news ci sono per cui dobbiamo iniziare iniziamo subito con le news di nintendo per questo mese andiamo c'è stata la festa per la stampa e hanno provato i nuovissimi giochi visti nelle a3 c'è stato anche shibata che faceva le foto con tutti quanti anche lui poi hanno provato anche il nuovo zelda brand of the world nuovissimo atteso poi il nuovo mario party e anche il nuovo dragon quest per 3ds poi uno di super mario è papper mario color splash hanno visto come si gioca per monster hunter che è stata detta e che si può il gatto vestire da zelda bellissimo oggi sono arrivati i nuovissimi amico di splatton stella e marina e anche altri nuovissimi ok avete visto tutto tutte le novità che ci sono state avete visto la stampa cosa ha visto ha visto tutte le novità va bene poi magari alla games week si vedrà va bene anche i nuovi amico che ci saranno i nuovi amico che sono arrivati oggi che poi io vi farò il video di stella e marina vi farò vedere gli amico come sono fatti e poi vi ricordo che sabato prossimo da giovedì a sabato saremo al rimini comics per farvi vedere com'è rimini comics e che cosplay ci sono perché le faremo l'intervista anche cosplay bene per oggi è finita domani ricordatevi 20 anni pokemon su pokemon go vi faremo vedere tutte le novità di pokemon go e vi diremo qualcosa che è uscito di pokemon sole e pokemon luna ma domani è direzionato di più a pokemon go perché è uscito e adesso è uscito per android ma ancora non per ios perché il 15 arriva per cui ricordatevi che domani c'è 20 anni pokemon per cui ci vediamo domani con il nuovissimo video sempre e solo nintendo